DS è il marchio premium del gruppo PSA, creato da poco più di un anno e che quindi si sta affermando sul mercato, ma per i suoi valori si ispira le DS del passato, modelli che hanno fatto la storia dell'automobile per innovazione ed eleganza. A Retromobile, il salone parigino delle auto d'epoca, DS espone quindi alcune auto da collezione che uniscono design d'avanguardia, tecnologia e raffinatezza. Un esempio per tutte è la DS20 Pallas, il nome Pallas indica un livello di finitura che nel 1964, quando fu presentata la prima, non si era ancora mai visto su un'automobile di serie. Il modello qui esposto è del 1974, green acré con tetto nero lucido e interni in tessuto jersey color caramello. Ma il pezzo forte dell'esposizione DS a Retromobile è la DS Coupé Bossaea GT 19. Prodotta in soli 12 esemplari, quello che vedete è quasi sicuramente l'ultimo rimasto. Ha una linea che è stata ridisegnata da un italiano, Pietro Frua, che ne ha creato una coupé sportiva, elegante ed esclusiva. Lo stand DS ospita anche alcune versioni della SM, auto da gran turismo di cui una, la SM OR, inedita e preparata appositamente per Retromobile, sfoggia linee d'avanguardia e tecnologie avanzate. Tutte le vetture esposte sono raffinate, eleganti, ma nello stesso tempo tecnologiche e innovative per l'epoca. Valori che sono ancora oggi fondamentali per il marchio DS. Dunque storia, passato e tradizione, ma sempre alla ricerca dell'innovazione. Grazie. Grazie.